Ciao, oggi vi preparo un ottimo brodino all'Orientale, ideale per questo periodo in cui comincia a fare un po' freddo. Prendiamo una mezza cipolla e montagne una strisce. Aggiungiamo in padella con un filo d'olio e poi un po' di salsa di soia. Aggiungiamo la fiamma e lasciamo cuocere per un po'. Nel frattempo prendiamo 100-150 grammi di pollo e andiamo a tagliarle a fettine sottili. Dobbiamo cercare di tagliarle in pezzi abbastanza sottili perché così si cuociono velocemente e uniformemente. E aggiungiamo il nostro pollo. Ora prendiamo mezzo peperoncino e andiamo a tagliare finemente. Aggiungiamo fuori questo. E continuiamo a scolare. Una volta che il pollo è cotto, prendiamo il nostro brodo, lo spostiamo sulla fiamma e aggiungiamo un pollo e cipolla al brodo. Aggiungiamo anche due forchettate circa di chicchi di mais e due forchettate di germoglio di soia. Aggiungiamo anche 80 grammi di noodles, noodles di riso. E facciamo cuocere per circa 4 minuti. Abbiamo quasi finito. Aggiungiamo un uovo. E portiamo dentro il brodo. Infine, un paio di foglie di lattura, tagliate finemente. Abbendiamo il brodo. Le facciamo cuocere per poco e poi siamo pronti per servire. Grazie. 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 Grazie.